Allora c'è un bambino zingaro, no? Questo bambino zingaro va a casa da sui genitori e si è rasato tutti i capelli. Gli fa, babbo, mamma, sono diventato uno schinez. Cosa hai fatto te? Sono diventato uno schinez. Vai subito in camera tua. Ma perché? Perché sì, vai subito in camera tua. Finché non ti rinescano i capelli, te fuori non ci vai più. E allora sua mamma gli fa, ma anche te la pensi così? Io la penso sì. Io non ti do neanche da mangiare finché non ti rinescano i capelli. Madonna, sono schinez da cinque minuti, questi zinger mi stanno già su coglioni.